Mi affido a te, penso. Che meglio di 5 minuti. Esatto. E' presidio, diciamo, fisicamente. Peccato che non vi è il nonno del dito, perché io mi sento bisnonno, essendo avendo cominciato 50 anni fa. In questi giorni siamo in campagna elettorale. Io mi sono incontrato con diversi dito, in alcuni molti importanti, parlando proprio di quello di cui io mi interesso. Ecco, certo, in campagna elettorale tutti dicono, hai ragione, è proprio quello che voglio sentirmi dire. Però credo che nessuno di questi leader abbia ancora capito di cosa stiamo guardando noi. Volevo parlo di modernizzazione del paese mediante il digitale. Questo vuol dire adeguare i processi e i prodotti che attualmente esistono alla nuova tecnologia. Non è quello che noi vogliamo come imprese, come cittadini. Noi vogliamo che il nostro paese non sia modernizzato, ma diventa un paese di modello. Quello che ha detto benissimo Decina, l'intelligenza collettiva, è quello su cui si dovrebbe basare un nuovo paradigma del nostro paese. Ecco quindi che Alleanza per Internet, di cui mi sento davvero a casa, dovrebbe porsi questo scopo, convincere, e credo che chiunque ci governerà, sarà asserzato da una persona di un senso. L'abbiamo davvero perso di uno. Chiunque ci governerà, dovrà capire questo. Allora vengono fuori investimenti, le infrastrutture, e tutto il resto. Perché se non pensiamo che al centro della rivoluzione del nostro paese, dovrà esserci una rivoluzione in cui si mette il digitale. E io ho fatto ecco. Per esempio, un esempio, parlando di manifatturiero, ho parlato con un grande leader, persone che io stimo, e lui non ha mai compreso che dire che non dobbiamo sviluppare in Italia il manifatturiero punto è una fesseria. Perché il manifatturiero punto vuol dire che non dobbiamo ancora stingere il signore che fabbrica i bottoni a cura a praticare i bottoni. Noi dobbiamo sviluppare il manifatturiero tecnologico, famose embeddere, che noi sappiamo cosa vuol dire, ma questi signori credo che dobbiamo insegnarli. Quindi noi dobbiamo forzarci perché il nostro diventi un paese moderno non modernizzato. È alleanza delle vite e credo che debba avere questo scopo. Grazie.